Ecco, questi sono i problemi di cui sopra, va bene, allora sfortunatamente, si riprende, no, faccio un ultimissimo tentativo, Apricon, il famoso Apricon, ah, VLC, forse non l'ho usato, ah sì, eccolo, dovrebbe farcela, niente audio, provo a staccare, qui si sente, si può, l'ho staccato, apposta, guardi, è già alto, faccio un microfono? Ora è al massimo, niente, va bene, provo a mettere il microfono, vediamo se ce lo facciamo, si sente qualcosa? Sì, sì, così mi guarda, papà, sono godi, sono godi, quindi si chiede i libri, questa truppa dei libri sono sempre gli stessi, cambiano solo qualche paragrafo, c'è una speculazione, ma questa pedofilia mediatica sui bambini, io mi vado in California e vedo le persone che girano con questo, ma è possibile, girano con questo, qui, non c'è lo zaino, si chiama Kindle, lo fa l'Amazon, costa 235 euro, pesa 210 grammi, non è un computer, è un e-book, ma non è un computer, non è uno schermo, non è reggiatto in atto, non ti dà fastidio agli occhi, è un e-book, e poi si accende, è una tecnologia nuova, sono palline che girano dal bianco all'erro, e questo soggettino qui si allaccia alla rete con un telefonino, c'è già un massimo suo che è già pagato, quindi non fai il collegamento. Eccetera, eccetera. Dunque avete capito qual è l'ideale, secondo Grillo, insito dentro questa nuova tecnologia, ovvero il fatto che permette un accesso alla conoscenza più facile, meno costoso, e permette anche in seconda battuta di rimuovere il carico degli studenti, di portare numerosissimi libri sulle spalle. Ora, ovviamente la visione proposta da Grillo è semplicistica per una serie di ragioni, tra le quali la prima riguarda l'aspetto del cosiddetto trashware, il fatto che questi dispositivi, non solo il Kindle ovviamente, bensì anche gli stessi iPad o i Kindle Fire, i tablet in generale, tendono ad avere, come dire, uno span vitale molto basso. Il Kindle in particolare, il Kindle e-reader, proprio per una questione che viene comunemente denominata obsolescenza programmata. Ora, non sto parlando in termini complottistici, però questo aspetto mi sembra interessante, perché ci sono diversi artisti che se ne sono occupati, tra i quali Benjamin Goulon, che è un artista francese, però credo che sia di base a Berlino, che quello che fa è molto semplice, recupera dei Kindle rotti da Ebay, ce ne sono un'infinità, proprio perché sono delle tecnologie piuttosto rudimentali, sembra un po' di utilizzare il web nel 95 o qualcosa del genere, e non fa altro che firmarli con laser e rivenderli come readymade. In questo senso cerca di esaltare questo aspetto, di ridare un senso a questa tecnologia che ha perso immediatamente senso dopo poco tempo. Un altro passaggio che si ha in questa idea del lettore che diventa utente è lo shift da possesso ad accesso a un certo contenuto. Dunque, se consideriamo l'editoria cartacea, nel momento in cui acquistiamo un libro ne possiamo fare più o meno quello che vogliamo, possiamo prestarlo, possiamo strapparlo, possiamo annotarlo, possiamo ricopiare tutto il contenuto, eccetera. Le compagnie che permettono di scambiare, di produrre, di diffondere contenuti digitali, cercano di limitare questo, non in origine, quantomeno per limitare le possibilità dell'utente, bensì per fare in modo che la pirateria sia sgominata. Ora, questo ha delle ripercussioni, che vengono affrontate in maniera abbastanza efficace da alcuni designer delle Cal di Losanna. Il progetto ha avuto un eco molto grande, infatti è riuscito a comparire persino sulla copertina di Domus. Il progetto è il seguente, sfortunatamente c'era il video... No, vabbè, ve lo racconto, tanto è molto semplice. Si tratta di una sedia che, dopo un certo numero di utilizzi, in particolare 8, si autodistrugge, grazie a dei sensori e degli attuatori nascosti nelle giunture della sedia. La sedia si chiama, il progetto si chiama DRM Chair. DRM sta per Digital Rights Management. Si tratta di un sistema sviluppato per l'appunto dall'Adobe, anzi no, utilizzato dall'Adobe, ma sviluppato in precedenza, che fa sì che un dato contenuto multimediale, in particolare l'ebook, ma non solo, si diventa inutilizzabile dopo un certo numero di passaggi tra dispositivi. Anche se, mettiamo il caso che io abbia 10 computer, dopo che ho passato il mio libro in 8 di questi dispositivi, il contenuto è assolutamente inutilizzabile. Dunque, il progetto di questo collettivo, di questi studenti, riesce in maniera molto efficace a dimostrare quanto sia assurdo questo sistema e quanto limitante sia nel lungo termine per un utente, quanto sia ingiusto, in parole povere. Un altro progetto che riflette sull'impossibilità di fare ciò che si vuole dei contenuti acquisiti, acquistati, è questo progetto che si intitola Do It Yourself Kindle Scanner. È una macchina realizzata con un set che si chiama Lego Mindstorm, che funziona molto semplicemente. Praticamente quello che fa è molto meccanico. Da una parte clicca, diciamo, spinge il pulsante relativo alla pagina successiva in un dato libro, e allo stesso tempo preme il pulsante Space per scattare una fotografia. In questo modo automaticamente ti permette di avere tutto il libro fotografato sul tuo portatile, in modo tale da poi poterlo scannerizzare con dei sistemi OCR, quelli che servono in pratica per riconoscere i caratteri all'interno di un'immagine, utilizzati da Google, eccetera. Un aspetto ancora più preoccupante relativo a questo passaggio all'accesso è il potenziale controllo che le compagnie continuano ad avere nel momento in cui un contenuto è acquistato. A questo proposito c'è un aneddoto che è quasi sconvolgente, che è accaduto nel 2009. Praticamente numerosi utenti avevano acquistato delle copie di 1984 di George Orwell, probabilmente lo conoscerete, guarda caso è una distopia che tratta proprio di temi di controllo in un universo in cui c'è... Praticamente si tratta del romanzo in cui è stato coniato il termine grande fratello, per dire. Dunque, che cosa è successo? Che per una bega sui diritti legali relativi a queste copie sul dispositivo, le copie sono magicamente scomparse dai dispositivi degli utenti che le avevano regolarmente acquisite. Dunque, Jesse England, un artista statunitense, ha pensato bene di evitare che questo potesse succedere una seconda volta e ha stampato una copia di backup in cartaceo, per l'appunto. E, allo stesso modo, Johannes P. Osterhoff, che è un artista tedesco, riflette invece sulla questione che non è molto dissimile da quella che abbiamo trattato noi nel progetto sui Popular Highlights, sul fatto che qualsiasi attività di lettura viene automaticamente spedita ai server di Amazon. Quindi Amazon sa esattamente a che punto un utente è del libro, a che velocità ha letto un dato capitolo, quali libri ha letto, eccetera. Quindi ha pensato semplicemente di rendere il lavoro per Jeff Bezos, che è il CEO di Amazon, rendere il suo lavoro più facile, semplicemente spedendoli via email tutti questi dati di lettura, dicendogli, ok, sono qui, sono a questo punto, così ti risparmio tutta l'infrastruttura informatica necessaria. Si tratta di una performance ancora in corso, che si può vedere sul sito creato apposta, che si chiama bezos.cc, se non sbaglio. Ok, passo la parola a? Abbiamo accennato prima all'identificazione, nel caso dell'auto-editoria, dello scrittore con l'editore. Fra i compiti dell'editore abbiamo accennato all'impaginazione e alla produzione della copertina, che sono compiti del progettista grafico. Nel caso in cui, appunto, uno scrittore ha desideri autoprodursi, deve quindi gestire anche questi elementi che non sono suoi propri. Ritornando all'antilibro, a questo movimento di pensiero a cui abbiamo accennato prima, iniziato da Francesco Pirella, negli anni successivi all'inizio di questo movimento, Pirella ha prodotto, ad uso dei futuri anti-editori, un manuale, che era suddiviso in due parti. Una prima parte dedicata alla storia della tipografia e dell'editoria, in quanto Pirella riteneva necessario che un autore che volesse pubblicarsi da sé dovesse conoscere le basi anche della tipografia, che non devono essere solo nelle mani dei grafici, ma devono essere anche alla portata di chiunque, per essere quindi autosufficienti. Quindi una parte storica e una parte più pratica, legata proprio all'uso dei caratteri, dei programmi di scrittura, e anche una breve parte legata alle legature, all'utilizzo di materiali semplici, anche per completare il proprio libro. Quindi una specie di antenato del nostro manicucite, come dire, diciamo così, non ci allarghiamo, diciamo che non nasciamo dal niente, diciamo così, va. A parte i casi di autori che sono diventati anche progettissi, volevo presentare alcuni esempi di scrittori che hanno collaborato con dei grafici per la realizzazione dei loro libri. Un esempio molto classico è quello di Vladimir Majakoski e Lissinsky, che hanno progettato insieme Per la Voce, che è una raccolta di poesie di Majakoski. Il progetto grafico di Lissinsky era molto legato alla funzione di questo libro, che doveva essere utilizzato dal poeta nelle letture pubbliche, e quindi ha inserito una rubricatura che appunto serviva al poeta per navigare agevolmente all'interno delle poesie durante la lettura. Questo libro è stato prodotto in Germania, non in Russia, con l'aiuto di un tipografo che ha avuto la pazienza di seguire il grafico e il poeta nelle composizioni dei caratteri utilizzati per creare le illustrazioni che accompagnavano le poesie, che si fondano nell'impaginazione. Quindi non sono separate, ma sono fusi insieme per il progetto che è stato appunto creato insieme dal poeta e dal grafico. Un altro caso interessante più attuale è quello della casa editrice Visual Edition, che cerca di venire incontro ai progetti più particolari proposti da alcuni autori, come per esempio il libro Trio of Codes di Jonathan Safranfor, che è un libro creato dall'autore a partire da un altro libro, Street of Crocodiles, che Foer desiderava produrre tagliando le pagine. L'editore si è impegnato nel ricercare un tipografo che fosse disposto a stampare un libro in un certo numero di copie, traforando le pagine in maniera sempre diversa, per creare vari livelli di lettura. La ricerca è stata difficile, però l'editore si è riuscito a trovare un tipografo che aiutasse l'autore in questo progetto, che era stato rifiutato da altri. In questo caso abbiamo l'editore che va incontro all'autore nel suo progetto, cosa che non sempre accade, in quanto spesso è l'editore che impone il proprio progetto grafico all'autore, che spesso si deve adeguare, non ha molta voce in capitolo in questo aspetto, e deve adeguarsi agli standard della casa editrice, che vengono decisi a priori. Un altro esempio di collaborazione tra autore e grafico è uno dei libri prodotti da Fanet Mellier, che durante una sua residenza d'artista al Festival dell'Affiche di Chaumont ha deciso di commissionare a degli scrittori dei racconti legati alla città di Chaumont. E per ognuno di questi racconti ha prodotto dei libri che attraverso l'aspetto grafico e la rilegatura, l'impaginazione, quindi ogni parte di questi aspetti, rappresentassero il racconto che ognuno di questi scrittori aveva creato per la città. In questo caso Fanet Mellier utilizza la stampa in quadricromia e due tipi diversi di caratteri per rappresentare il racconto scritto da Céline Minard che fonde due tipi di linguaggi molto diversi. Il linguaggio delle bande di strada attuali è quello del linguaggio medievale francese e quindi attraverso l'utilizzo di due caratteri diversi e dei colori che si sovrappongono cerca di diffondere insieme, di far trasparire attraverso la stampa quello che è contenuto all'interno del test. In questo caso abbiamo una progettazione che parte dal grafico che commissiona un testo a un autore e lavorano insieme per produrre il libro in modo che sia significante e anche legato al contenuto. L'ultimo esempio che adesso vi racconterà Saria è il progetto Paisaggio 013 in cui i poeti hanno collaborato con noi grafici nella realizzazione del progetto grafico e dell'impaginazione. Da dove cominciamo? La collaborazione con Caratteri Mobili in realtà risale a qualche anno fa insomma, sin dall'inizio della storia di Caratteri Mobili che è una casa pugliese relativamente giovane nata intorno al 2009-2010 sia come Zabar sia personalmente come Maria Rosaria Di Gregorio ho spesso collaborato con loro e da tempo c'era da parte di entrambi la curiosità e l'intenzione di provare a mettere insieme una pubblicazione abbastanza standard a livello editoriale ma con una produzione molto artigianale. Dal punto di vista editoriale loro hanno ritenuto opportuno sperimentare questa cosa con la poesia perché stando alle loro esperienze precedenti avevano difficoltà a vendere i libri di poesia e quindi volevano provare con un'operazione più artigianale e con un'operazione che desse più valore all'oggetto libro insomma, provare a vedere se questa scelta poteva garantire dei ritorni economici che diversamente non c'erano stati. la cosa molto interessante di questo progetto è stato appunto il rapporto che c'è stato con gli autori inizialmente noi abbiamo ricevuto dei file delle cartelle di testo con test impaginati in maniera estremamente diversa e ogni autore aveva scelto il suo carattere il suo formato in alcuni casi in maniera abbastanza automatica basandosi sulle impostazioni predefinite all'apertura di Word in alcuni casi modificandoli per delle esigenze specifiche quindi noi ci siamo trovati di fronte a questo insieme estremamente eterogeneo di testi e alla necessità di dover dare una forma a questa antologia per noi è risultato fondamentale parlare direttamente con loro infatti tutta la progettazione è consistita in una serie di dialoghi interviste e verifiche di passaggi progettuali successivi direttamente con loro ed è stato per entrambi un processo estremamente interessante e in alcuni casi abbastanza sorprendente per esempio magari vi raccontiamo la PRIFT forse il caso più emblematico di come ci sia stato uno scambio reciproco durante il processo di progettazione è quello relativo a Ionida PRIFT che è una poetessa che scrive sia in albanese che in italiano in questo caso aveva scritto dei testi in italiano e scegliendo devi andare un po' avanti ah no qui scegliendo un'impaginazione dei testi centrata molto solenne molto statica noi nella prima versione del libretto avevamo mantenuto l'impostazione dei testi scelta da lei e avevamo deciso di enfatizzare una frase in particolare che dopo aver parlato con lei c'era stata indicata come la frase che sintetizzava tutta la raccolta di poesie e che se fosse dipeso da lei sarebbe diventato cioè in teoria poteva essere il suo unico contributo alla raccolta solo che per ragioni di omogeneità con gli altri con gli altri contributi degli altri autori insomma aveva dovuto comunque fornire degli altri testi perciò la nostra proposta iniziale era stato un libretto con i testi interni impaginati come come li aveva impaginati con una copertina separata contenente l'altra frase ciò che è successo di molto per noi piacevole ma è anche interessante è stato che dopo aver visto le prime versioni di tutti gli altri libretti l'autrice ha deciso di voler rimpaginare le poesie perché si è resa conto di un qualcosa che le sarebbe piaciuto avere all'interno dell'impaginazione e che non c'era voleva che diciamo la forma complessiva dei suoi testi ricordasse quella degli stormi di uccelli di cui parla nella sua frase principale e di fatto ha rimpaginato da sola tutte le sue poesie facendosi facendosi aiutare da da un suo amico grafico e questa è la versione che poi ci ha consegnato in realtà per ogni per ogni libretto ci sono delle delle singole storie ad esempio in quest'altro caso l'autrice ci ha dato parte della poetica dell'autrice è quella di lasciare la sua opera estremamente aperta potenzialmente aperta ad essere completata integrata da altre persone da altri autori e molto spesso all'interno delle sue performance scrive parte dei suoi testi delle sue poesie su post-it cartoncini distribuendoli nello spazio insomma è un rapporto molto molto vivo molto vitale con la lettura molto performativo e quindi avevamo deciso di tenere cioè di fare in modo di mantenere potenzialmente questa caratteristica anche nel anche nella versione stampata perciò le abbiamo proposto questa serie di di carte che possono essere rimescolate disegnate integrate e in questo caso il testo che ci aveva fornito inizialmente era un unico testo lineare che poi noi abbiamo rispezzettato insomma ognuno di questi libretti ha una storia molto diversa rispetto al molto molto specifica rispetto al come si è si è evoluto il progetto però l'aspetto cioè quello che per noi è stato fondamentale capire imparare anche come dire vederci di confermare è stato proprio il questo aspetto di collaborazione cioè qualcosa che molto spesso accade in ambito editoriale quando il grafico da solo si occupa quando il grafico viene affidata alla progettazione di un libro è molto spesso ignorare completamente quali sono le intenzioni dell'autore quali sono in alcuni casi le intenzioni dell'editore sono chiare però non quelle dell'autore in questo caso il fatto di avere di avere optato per un processo produttivo estremamente artigianale estremamente autogestito ci ha permesso anche di gestire i tempi in maniera autonoma e gestire anche i rapporti con gli autori in maniera autonoma che è una libertà che spesso non è così semplice riuscire ad ottenere in un contesto di produzione più industriale un altro no di una domanda di questo ne parlo dopo comunque quindi si può saltare va beh intanto ti chiedo hai detto che la premessa di questo progetto era quella di vedere se effettivamente la forma libro poteva arrecare diciamo dei vantaggi in termini economici ci sono dei riscontri in questo senso ancora no no di fatto comunque la pubblicazione è stata ultimata di recente e anche qui tra l'altro questo è uno dei casi in cui l'editore ha deciso di non utilizzare ogni SBN e di non appoggiarsi al circuito di distribuzione nazionale che invece utilizza per le sue produzioni quelle normali quindi quello che stiamo cercando di fare in questo momento è costruire una rete di distribuzione differente che si rivolga a due tipologie di potenziali lettori una sono i grafici appassionati di libri e di cose stampate e altre stranezze e l'altra sono invece gli autori Silvio che stai facendo e l'altra tipologia di potenziali lettori acquirenti a cui pensavamo di rivolgersi di rivolgerci sono appassionati di poesia e poeti stessi perché una cosa di cui ci siamo resi conto è che molto spesso ognuno di loro aveva già delle idee molto chiare sul quale poteva essere la forma libro più adatta per il loro testo quindi è qualcosa su cui spesso ma chiaramente l'autore stesso ragiona però non sempre ha la possibilità o anche le competenze tecniche per le competenze tecniche e la disponibilità di un editore per realizzare quell'idea quindi diciamo nel loro caso loro stessi c'erano sembrati molto soddisfatti del risultato e disposti ad acquistare e sostenere secondo noi anche a trovare altre persone che potevano essere interessate quindi diciamo la verifica sulla questione economica è ancora tutta in corso tutta da far partire proprio però un aspetto importante c'è un aspetto molto pratico che all'inizio c'eravamo dati un budget un costo massimo del libro finito che era molto inferiore a quello che poi effettivamente è risultato perché tutta una serie di valutazioni su i tempi materiali soprattutto la mano d'opera hanno inciso parecchio io personalmente ho un rapporto di amore odio perché c'è un progetto a cui mi sono molto appassionata però c'è questa componente del prezzo che è qualcosa che tuttora non mi va giù e che però è comunque qualcosa contro cui ci si scontra inevitabilmente nel momento in cui si decide di produrre manualmente tutta una serie di cose che magari possono sono costi che possono essere abbattuti ricorrendo a delle tecnologie seriali di produzione su larga scala però lo stesso tipo di problemi di costi elevati per produzioni per tirature basse lo si ha come stavamo dicendo prima durante la pausa con per esempio il print on demand anche nel caso di una produzione digitale ci possono essere come dire la questione secondo me non è digitale analogico è proprio la tipologia di scelte che di volta in volta si fanno e anche le tirature che di volta in volta si si scelgono o si è costretti per ragioni diverse a fare io passerei direttamente a parlare di strumenti produzione testo supporto analogico digitale perché ne stiamo già parlando ah no non possiamo ci siamo quasi posso comunque raccontarla nel frattempo paesaggio tra l'altro non l'avevamo detto il titolo paesaggio 013 esiste anche in in forma in formato digitale è nato come un progetto che voleva esplorare la poesia da due punti di vista oltre a caratteri mobili oltre a commissionare a noi la versione stampata ha commissionato a un musicista Francesco Giannico una delle tracce audio per ciascuna delle per ciascuno dei dei poeti in pratica è quasi una sorta di audiolibro con un panorama sonoro che si fonde con il testo letto abbiamo pensato di produrre una versione digitale anche dei testi e in questo caso una cosa banale da dire però estremamente vera è che il tipo di supporto che si decide di utilizzare determina la forma finale del risultato finale per la versione digitale proprio perché tutta una serie di scelte significanti che erano legate ad aspetti materici non potevano essere non potevano essere comunicate in una versione digitale abbiamo deciso di annullarle completamente e la versione digitale di paesaggio sono una serie di file txt con in cui l'unica cosa che rimane fedele rispetto alla versione stampata sono gli allineamenti dei testi mantenuti grazie all'utilizzo di un carattere monospaziato ci sono quasi ok giusto a titolo di esempio avevamo messo due immagini una era quella del file txt del libretto di cui stavamo parlando prima che è completamente diverso dalla versione stampata invece uno dei libri uno dei casi in cui la versione stampata è molto simile a quella txt quella del libro che si sta rompendo che è un rotolo e che chiaramente si presta molto bene ad essere sì ad essere letto a schermo un altro aspetto rilevante rispetto alla questione strumenti produzione nel nostro caso in quel caso di paesaggio è quella del formato dal momento in cui avevamo deciso per ragioni pratiche ed economiche di stampare in digitale con una stampante A4 che era la stampante che avevamo a disposizione in quel momento tutti i formati scelti si sono adeguati a questo standard e poi per esempio in un caso abbiamo stampato su A3 e abbiamo utilizzato una abbiamo dovuto trovare soluzioni alternative cioè la soluzione alternative è stata trovare un'altra stampante però il rotolo invece è stato stampato con la stampante A4 piegando il foglio a metà e stampando prima una parte e poi l'altra perché non era possibile fare altrimenti quindi molto spesso è vero che il tipo di supporto il tipo di supporto e il tipo di tecnologia che si decide di utilizzare determina la forma finale però in un ambito in un contesto di autoproduzione spesso ci si trova anche a forzare i limiti degli strumenti che si utilizza secondo me è uno degli aspetti più affascinanti proprio dell'autoprodurre questo è lo screenshot del contenuto della cartella dell'edizione digitale del file di paesaggio appunto contiene tutti i testi e alcune immagini dei singoli libretti l'immagine successiva è la versione solo testo di questo libretto una parte chiaramente non tutto e quella successiva è la versione solo testo del rotolo che come potete vedere è abbastanza simile ripasso era questo sì ho fatto tutto tranne questo che ne parliamo dopo sì Silvio allora ecco siamo siamo giunti all'ultimo tema il penultimo tema beh il tema degli strumenti ovviamente a me è importante particolarmente perché credo che come diceva Saria ribadisco lo strumento utilizzato trasforma ridefinisce senza ombra di dubbio il tipo di prodotto editoriale che si va a produrre e benché a me interessi particolarmente questo aspetto di digitale proverò a ribaltare la questione proprio per dimostrare quanto sia forte questa influenza da parte del digitale anche nel momento in cui non non si fa uso di alcun tipo di strumento digitale dunque il progetto di cui vi parlo è realizzato da un designer olandese e si chiama un progetto che si intitola analog blog ciò che ha fatto il progettista è di autoimporsi due mesi in cui non ha avuto accesso ad alcun tipo di strumento digitale e ha documentato le sue esperienze usando ovviamente strumenti che precedono quest'epoca uno degli aspetti più interessanti secondo me come vedete usa una macchina da scrivere usa un rotocalco poi per ristampare i manoscritti e infine si appoggia come succedeva d'altra parte negli anni 70 in particolare con la mail art al sistema postale per diffondere le sue esperienze ai lettori che si erano che avevano sottoscritto che si diciamo che si erano in un certo senso legati al servizio l'aspetto interessante è quello secondo me terminologico il fatto che lui vada a parlare comunque in ogni caso di blog e di blog readers in questo senso in un certo in un certo senso ciò che ne emerge è il fatto che la macchina da scrivere che utilizza il sistema postale viene comunque completamente ridefinito in quanto non è più una scelta di default usare una macchina da scrivere non è più la scelta che si farebbe ovviamente quindi diventa quasi una scelta in contrapposizione una sorta di statuto una scelta che ha un significato di per sé l'influenza degli strumenti digitali come dicevo non si limita soltanto ai libri che vengono prodotti al giorno d'oggi un caso chiave di questa influenza di questa sorta di di sistema che intercorre è rappresentato dal sistema dalla piattaforma google books che probabilmente consulterete molto spesso per cercare i vostri titoli l'artista Chrissy Wilson raccoglie in un tumblr che porta avanti ormai da un paio d'anni tutti gli errori che emergono dalle scansioni che guarda caso sono svolte da esseri umani in cui potete vedere dunque ogni tipo di errore e in un certo senso rimandano a quell'estetica di cui parlavo in precedenza quella della macchina che si che si coniuga a quella invece degli stessi diciamo delle stesse imperfezioni della stampa quindi in un unico livello abbiamo errori che dipendono dalla gente umano che interviene errori della macchina che magari crea un problema di colore con un certo tipo di tonalità l'effetto moirè per esempio e quindi abbiamo un livello unico che è una scansione che ci restituisce tutta questa influenza come una sorta di prova scritta di quanto anche i libri analogici anche i libri i vecchi tomi in un certo senso sono rimodificati perché noi ne facciamo esperienza attraverso questi sistemi molto spesso dunque strumenti tool e software bene un altro esperimento teso a dimostrare questo tipo di influenza fu svolto nel 62 da Engelbart che è praticamente noto al giorno d'oggi per aver inventato il primo prototipo di mouse il suo obiettivo il suo più grande obiettivo non era tanto quello di creare una periferica che permettesse di muovere un cursore sullo schermo bensì l'obiettivo era più nobile ed era quello di aumentare le capacità intellettuali intellettive dell'individuo attraverso sistemi di network magari collaborativi infatti l'idea la sua idea era quella che un singolo computer o quantomeno una serie di computer collegati dovessero ospitare l'interazione di diversi utenti al tempo stesso mentre attualmente qualsiasi esperienza che facciamo attraverso le macchine standard che utilizziamo è un'esperienza singolare individuale dunque l'esperimento che fa per dimostrare esattamente l'opposto ovvero come de-aumentare l'individuo è quello di legare un mattone a una matita e tracciare la documentazione di come la scrittura cambia in base a questo tipo di approccio e facendo anche dei confronti tra calligrafia macchina da scrivere e calligrafia senza mattone diciamo questo tipo di lavoro sugli strumenti è portato ho perso una parentesi vabbè è portato avanti in un progetto intitolato Auto Summarize un progetto del 2010 che lavora proprio sugli strumenti di desktop publishing di cui parlavamo prima il progetto è molto semplice l'artista recupera un centinaio dei libri più scaricati più venduti più dei libri diciamo più popolari e ne fa un riassunto grazie a una funzione presente in Microsoft Word che guarda caso si chiama Auto Summarize e permette di fare un riassunto di un libro di un qualsiasi libro in dieci in dieci frasi in questo modo fa emergere il tipo di diciamo l'aspetto non neutrale degli algoritmi e in questo caso ad esempio vedete l'Iliade che è anche un po' l'ironia di questi algoritmi dunque abbiamo l'Iliade che recita così dei 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 ettore dei dei ettore dei 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 quindi per dire che in un certo senso l'intelligenza dell'algoritmo è quella che fa emergere che non è tanto una questione umana quella dell'Iliade passando al sempre tenendo in considerazione la questione degli strumenti però rivolgendo gli strumenti di stampa è lecito chiedersi che senso abbia stampare oggi e anche in questo caso vi propino una visione catastrofista catastrofica di Irma Boom che è come dire una pietra miliare del book design no lei sostiene che spesso quando si trova in un bookshop in una in una libreria si deprime tantissimo nel vedere molti libri che sarebbero potuti benissimo essere dei pdf in quanto libri tra virgolette standard ovvero l'opposto di paesaggio direi ma infatti secondo me cioè come dire dal suo punto di vista Irma Boom è una designer che lavora molto sulla sulla forma libro ogni suo progetto in ogni suo progetto ogni singola scelta la tipologia di stampa la tipologia di carta è significativa rilevante curata quindi secondo me chiaramente si è contenuto al 100% quindi chiaramente si deprime ma secondo me non in maniera catastrofista la questione cioè la questione è che per come la vedo io è vero che magari alcune cose funzionano meglio in pdf o non hanno così tanto la necessità di essere stampate o comunque non sempre stampare una necessità può essere anche un lusso uno sfizio però come dire quello che secondo me lei denuncia è la la distanza progettuale tra quello che poi effettivamente è l'oggetto libro e in realtà quello che poteva essere necessario per la sua diffusione sì sì senza dubbio infatti ho usato vuoi aggiungere qualcosa no sì probabilmente ho usato a sproposito probabilmente la catastrofe è quella che lei si trova davanti davanti ai suoi occhi perché magari però penso che lei comunque parli anche a livello di contenuto non solo di cioè certi libri magari effettivamente non necessitano neanche di una forma cartacea dell'iper prodotto della sovrapproduzione ci sono molte questioni condensate in questa frase che è una sorta di oracolo in un certo senso io la percepisco un po' così un'altra visione è di Florian Kramer che è uno studioso di media e di di letteratura il concetto chiave che lui esprime è proprio proprio quello della scelta di scelta di tecniche tecnologie analogiche proprio in opposizione alla pervasività del digitale lui sostiene che le fanzine attualmente al giorno d'oggi molte di quelle che vedete qui ad esempio sono realizzate sono stampate proprio perché non sono dei blog i libri d'artista do it yourself sono stampati proprio perché non sono dei siti web o dei pdf ora non effettivamente mi riesce difficile coniugare queste due visioni però mi pare interessanti perché mettono in relazione in maniera un po' diversa da quella che frequentemente ci viene propinata l'analogico e il digitale sembra in un certo senso che l'analogico sia analogico poiché c'è il digitale in un certo senso almeno secondo Kramer probabilmente magari voi la pensate diversamente o ci penso rispondo va bene nel momento in cui lo confronto con un elemento digitale dico non voglio che sia solo digitale voglio che sia anche cartaceo cioè nel momento in cui lo confronto questo dovrebbe essere si può essere si può essere anche letta così potrebbe comunque quest'anno è un caso interessante quello dei vinili proprio perché una delle operazioni fatte per diciamo per promuovere i vinili che effettivamente ha funzionato è quella di dare insieme al vinile stesso il formato digitale in alta qualità dell'audio presente sul vinile però credo che Kramer non è che voglia dire che ci sia diciamo il vinile che infatti lui cita che il vinile come le come le le fanzine sono in calo anzi lui dice che sono in aumento ma proprio perché siamo circondati da secondo me la visione è legata a una rissociazione tra il contenuto del libro del testo e il libro come oggetto cioè secondo me quello che è per lei potrebbe essere PDF è tutto quello che non ha senso di essere stampato perché tanto non ha un valore intrinseco come oggetto un appassionato lettore necessita quella forma di convulsione d'acquisto perché tanto non lo leggerò ma intanto lo compro secondo me l'editoria dovrebbe utilizzarsi in questo e far vivere di più la parte passione emotiva del libro come oggetto e della cultura del libro dell'editoria laddove è soltanto una necessità di contenuto val bene il PDF perché vado a scurirmi nel momento in cui ho bisogno spesso il meno possibile e non sto lì secondo me la depressione di Irma è che tanti contenuti per i quali varrebbe che ci fosse una ricerca di veste tipografica editoriale diversa invece non è così perché non si capisce perché gli editori non incentivino la ricerca materica sui libro cioè un bel libro lo si compra a prescindere a volte dal contenuto perché un appassionato lettore ce l'ha perché quelli di prova ha tenuto in libreria non so se mi allontano molto da quello e l'esempio è esattamente quello di di Tramer perché perché un appassionato di musica compra un vinile non perché gli si dà bianco l'MT3 in alta qualità perché lui lo riproduce e lo copia dal vinile perché vuole sentire il cuscio vuole sentire quella percezione di audio che dà il vinile che non dà l'MT3 perché l'artista musicale vuole una una poesia d'ascolto che prescinde da quello che sta ascoltando ma è connessa alla alla diffusione proprio cioè all'ascolto alla riproduzione di quello che c'è di perché devo levare il cuscio contro il vinile perché lo vuole con il cuscio sono d'accordo capisco che c'è questo c'è questo aspetto ed è forte però allo stesso tempo credo che ci sia un aspetto molto forte che è l'aspetto pragmatico molto spesso mi capita di comprare dei libri cartacei che mi piacciono per il layout per il tipo di oggetto però dovendo viaggiare in treno e magari usare quel tipo di contenuto proprio in maniera utile alla mia ricerca magari ricopiandolo mi farebbe comodo anche averci il pdf quindi sono d'accordo sulla questione del fruscio degli aspetti diciamo materici farei attenzione alla retorica specialmente in relazione al tema della cultura del libro come dire lei parla di cultura del libro riferendosi all'oggetto però anche numerosi esperimenti che hanno a che fare con diciamo prodotti editoriali che non sono materici si possono considerare cultura del libro cultura del libro può essere anche sì sì no 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 certo è solo per per aggiungere no no capisco anch'io sono chiaramente essendo un designer anche a me piacciono i libri però a un certo punto ho sentito una sorta di non so con Saria si diceva che ci sono tipo decine di zine festival di come dire festival dell'editoria molto spesso il rischio è che succeda il contrario che si perda che la cultura del libro metta da parte del contenuto in un certo senso secondo me cioè quando io penso di aver detto che quello che non ha senso che venga stampato perché carta che piuttosto lasciamo la cedulosa parlo della manualistica inutile da pubblicare sì 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 certo comodo come tant'editoria che è perfetto anche qui tante editoria che secondo me riempie gli scaffali delle librerie e che è di pessima qualità perché perché l'editore pubblica anche per il diletto dell'autore semplicemente perché gli fa pagare le prime 500 mille copie e bla 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 e ritorniamo su quello che insomma sono i problemi cioè se invece là dove c'è un contenuto interessante valido visto che i grafici sono tanti e che magari hanno anche poco da lavorare ultimamente potrebbero gli editori piuttosto che chiedere i mille euro i mille euro i cinque mila le mille copie acquistate dall'autore investire di più sull'editoria di qualità come contenuto sempre ma per dargli anche visto che abbiamo tecnologia da da buttare insomma per poter dare dignità anche materica a qualcosa che cioè Proust non lo vai a stampare a interdina doppia perché insomma non servirebbe insomma però tanta altra editoria magari può essere aiutata nella commerciabilità anche da una ricerca di tipo cioè come oggetto di produzione sì sì penso che siamo d'accordo su molti punti e vi propongo a proposito di questa idea dello stampare alcune posizioni radicali sul senso che può avere la stampa oggi e c'è questo progetto meraviglioso di Javier Anten che si chiama Just in Time A Short History of Production l'idea è molto semplice è quella di mettere insieme diverse tecnologie di stampa alcune delle quali le abbiamo viste tipo credo che la prima sia appunto il mimeografo e l'ultima sia la nostra la stampante di casa ognuna di queste stampanti stampa un colore e il libretto che ne viene fuori in quadricromia ovviamente ci racconta guarda caso proprio la storia di questi meccanismi di produzione attraverso immagini dunque in questo caso il senso della stampa è quasi decubblicato in un certo senso perché il libro parla della stampa attraverso cui è stampato questo libro e non lo so sono quasi sopraffatto da questo progetto mi sento stampato e sì dunque questo è un esempio in cui la stampa ha senso intrinseco di processo un altro tipo di prospettiva che si può applicare alla stampa che probabilmente è vicina al senso originario della stampa è quello di strumento di archivio però in questo progetto questa idea di archivio dell'oggetto libro viene portata al massimo estremo infatti quello che David Goetz fa è stampare su un libro cartaceo l'intero codice binario digitale di film classici in questo caso è la GT ma ha anche stampato ad esempio il viaggio sulla luna di Melies la sua posizione credo sia chiara e penso che sia di riflettere magari non in maniera un altro tipo di discorso può essere persino politico e vi racconto questo breve aneddoto in cui un informatico statunitense dell'MIT aveva realizzato ha realizzato un software un software che serve per come si dice in italiano per crittografare le proprie email questo programma si chiama Pretty Good Privacy è molto utilizzato anche noi ci sarà capitato di utilizzarlo magari inconsciamente che cosa è successo? è successo che il governo statunitense ha visto del grande potenziale in questo software e per metterci diciamo per appropriarsene l'ha dichiarato un'arma un'arma a tutti gli effetti questo che cosa implicava? implicava che non era possibile distribuirlo in maniera legale dunque Zimmerman si è trovato in una posizione abbastanza difficile lui riteneva che sarebbe stato controproducente cedere il codice solo agli Stati Uniti perché magari non so un gruppo terroristico se ne sarebbe potuto appropriare a scopi a scopi scopi diciamo per fare del male dunque la sua idea era quella di renderlo pubblico per chiunque in modo tale che potesse essere migliorato che cosa ha fatto? l'ha stampato su un libro che cosa succede? che cosa implica questo? implica il fatto che un codice di qualsiasi tipo stampato su un libro a tutti gli effetti è protetto sotto il primo emendamento ovvero la libertà di parola diventa immediatamente letteratura e gli Stati Uniti non hanno potuto fare niente e lui ha potuto diffondere il suo codice il suo codice sorgente con l'unica diciamo con l'unico problema che effettivamente utilizzare questo codice voleva dire ricopiarlo a mano dal libro stesso un esempio opposto per concludere su questo tema è l'idea di stampare per nascondere è sempre un'idea radicale di stamp ed è relativa alla contemporaneità riguarda il caso Snowden che cosa è successo? di nuovo il governo statunitense ha chiesto all'email provider di Edward Snowden di fornire tutte le sue email in maniera leggibile ovviamente queste email erano protette guarda caso dal software precedente attraverso una chiave questa chiave è composta da pagine e pagine di caratteri senza alcun senso per un essere umano e questa chiave è necessaria per leggere i contenuti in maniera con il linguaggio naturale dunque l'Avabit il provider di Snowden che cosa ha fatto? ha detto ok governo io vi do la chiave però invece di darvela in formato digitale vi mando un faldone in cui questa chiave è stampata a corpo 4 quindi piccolissimo in maniera cartacea senza fornire una versione digitale questo avrebbe significato per il governo statunitense di ricopiare tutta la chiave e se fosse stato sbagliato anche un solo carattere le mail non sarebbero state leggibili l'esatto opposto di Zimmerman e dunque queste mi sembrano delle questioni interessanti riguardo a all'idea di stampare oggi passo la parola a Francesca se non ci sono domande c'è una domanda? allora io volevo raccontare un caso in cui l'evoluzione degli strumenti di stampa ha permesso la realizzazione di un progetto che inizialmente era stato limitato dai mezzi di stampa che non permettevano un certo tipo di stampa diciamo così vi parlo di Nanni Balestrini che è un poeta che negli anni 60 ha fondato il gruppo 63 che era un gruppo di riflessione sulla poesia e la letteratura sperimentale ed è stato uno dei primi a utilizzare un calcolatore elettronico che ai tempi riempivano intere istanze ed erano proprietà solo di grandi industrie in questo caso lui ha utilizzato un computer dell'IBM prodotto dall'Olivetti e il suo primo esperimento con cui ha cercato di produrre tramite un algoritmo una poesia si chiama Tape Mark Prima ed è stato pubblicato su Manaco Bompiani che abbiamo qui sul tavolo dopo potete anche guardare quando la casa editrice di Riva Prodi decide di ristampare varie opere di Balestrini e cerca di realizzare il progetto originario cioè quello di produrre copie uniche del romanzo grazie alla tecnologia prodotta dall'Axerox che abbiamo già nominato prima sia nel caso dell'antilibro sia come produttrice della fotocopiatrice che è sempre il primo strumento dell'autoproduttore come dire e l'Axerox è stata sempre anche molto attenta a vari tipi di sperimentazioni sull'editoria che gli hanno anche permesso di produrre macchine adeguate alle richieste degli editori Tristano è stato pubblicato in 1500 copie che sono solo una parte delle possibili combinazioni del romanzo e quindi grazie all'evoluzione della tecnologia è stato possibile realizzare l'intento originario dell'autore quindi siamo all'ultimo argomento l'ultimo tema allora legato sempre al concetto di antilibro era il concetto di una tiratura che dovesse essere legata all'utilità nel senso che grazie all'antilibro ogni libro poteva essere stampato solo nel momento in cui serviva quindi un'editoria che sia legata al concetto di quando serve e quanto serve quindi pubblicare un numero ristretto di copie solo nel caso in cui un lettore lo richiede o nel momento in cui ho una richiesta reale e anche legato sempre all'antilibro era la questione della versione unicamente digitale di un libro che poteva essere scaricata dal lettore nel momento in cui desidera leggerlo può leggerlo o a schermo o stamparselo semplicemente per la lettura legato al tema della distribuzione e diffusione e anche del progetto iniziale è un progetto lanciato da Visual Edition che ha cercato di e ha anche ottenuto dei finanziamenti tramite Kickstarter per un progetto editoriale che andrà a realizzare nei prossimi mesi tramite quindi Kickstarter ha cercato di finanziare la parte di ricerca per questa edizione di Don Quixote in pratica finanzierà grazie a questi fondi che sono stati raccolti sarà finanziato il viaggio di un fotografo nei luoghi raccontati nel romanzo nel romanzo e al fotografo si affiancherà per una parte della ricerca un grafico e saranno studiate edizioni antiche di Don Quixote per poter poi realizzare grazie alla casa Visual Edition una nuova versione di questo romanzo e quindi un modo per restringere come dire in questo caso possiamo dire che se non ci fossero stati i finanziamenti per la parte di ricerca per la produzione di questo libro questo libro poteva anche non essere mai prodotto in questo caso sono i potenziali lettori che finanziano la produzione del libro che prossimamente andranno ad acquistare sulle piattaforme di crowdfunding Kickstarter funziona che funziona così ovvero solo se si raggiunge il tot di fondi necessari questi fondi vengono effettivamente dati a chi propone il progetto mentre ci sono altre piattaforme che magari a cui magari qualcuno di voi può essere interessato per produrre qualcosa in crowdfunding ad esempio Indiegogo piattaforme nelle quali diciamo c'è una c'è più un'idea di donazione anche nel caso in cui non si raggiunge il goal questi soldi vengono comunque versati al promotore del progetto ok proviamo a vedere in che modo i canali di distribuzione possono influenzare possono avere un certo impatto sulla sulla forma di un dato contenuto vi racconto un breve aneddoto personale che riguarda un libro molto semplice che ho sviluppato attraverso un software che si chiama iBooks Author è un software estremamente semplice un software per dare a tutti la possibilità di creare un libro per ipad il libro era composto da semplicemente una serie di immagini trovate su google in cui la chiave di ricerca era appunto natural gestures l'idea era fondamentale che il libro fosse fruito sull'ipad in quanto il tema del progetto era appunto l'idea che diciamo la retorica che è portata avanti molto frequentemente sull'idea che i touch i dispositivi touch propongono una forma di interazione che è naturale intuitiva dunque senza andare poi nel dettaglio dunque vi racconto che cosa è successo proponendo questo libro all'apple store ovviamente che peraltro io volevo dare anche gratuitamente quindi ci sono rimasto proprio male dunque la apple mi risponde relativamente al mio contenuto natural gestures e il problema all'interno del mio libro è che aveva una funzionalità limitata che cosa intendeva la apple per funzionalità limitata qualcosa ci si aspetta da un libro digitale che al suo interno vi siano contenuti multimediali video non so mappe interattive non basta non è sufficiente ad esempio tenere semplicemente l'applicazione del software che permette di sfogliare le pagine mentre nel mio caso ciò che mi interessava ciò che volevo fare emergere era proprio il software quindi nel mio caso non avevo accesso al canale principale per cui attraverso cui il mio contenuto sarebbe stato dovuto sarebbe avrei voluto diffonderlo e che cosa avrei dovuto fare avrei dovuto completamente cambiare il progetto per essere sì per essere disponibile su questo canale questo giusto per darvi un'idea di che cosa può significare affacciarsi su nuovi canali ora quali canali sono a disposizione di un editore o di un designer che si autoproduce dei libri alcuni sono stati già nominati come le piattaforme di print on demand che non solo permettono di pubblicare un proprio libro scaricabile acquistabile in cartaceo ma forniscono anche una piattaforma diciamo d'acquisto dove un utente va e scopre dei nuovi titoli però ce ne sono altri che raramente vengono presi in considerazione perché non sono considerati ufficiali su questi canali ad esempio quali ad esempio monoscope o arg.org o libgen è possibile scaricare illegalmente gratuitamente dei libri nel caso specifico di monoscope dei libri legati alla media art questi canali hanno un forte impatto c'è anche Parete Bay diciamo rappresentano un canale alternativo di un certo vigore la domanda se questi canali effettivamente creino un problema relativo agli introiti delle case editrici è ancora tutto da vedere perché la domanda che si pone sempre è ma se io non avessi trovato questo libro scaricabile gratuitamente l'avrei effettivamente comprato quindi c'è chi sostiene persino anche nel caso del cinema che rendere disponibili dei contenuti gratuitamente su piattaforme tipo i torrent agevolerebbe l'effettiva diffusione c'è gente che magari scarica un film per poi ricomprarlo e lo stesso potrebbe valere per i libri ora non sto dicendo che è davvero così c'è chi sostiene questo e secondo me è una questione da prendere in considerazione o quantomeno considerare nel momento in cui io produco un libro che magari se avrà una certa audience il mio libro potrebbe finire su uno di questi canali e magari potrebbe avvantaggiarmi perché magari ho l'obiettivo di raggiungere più occhi possibili vediamo chi effettivamente ha provato a prendere in considerazione nel progetto grafico di un libro i vari canali disponibili allora questo è un libro che parla per l'appunto di post for this and its discontents un libro che non ho letto lo confesso prodotto dalla Jan van Eyck di Eindhoven l'aspetto interessante è che per relativamente al canale di distribuzione in cui il libro è effettivamente distribuito la copertina incorpora alcune informazioni e come vedete include lulu.com che è una di quelle piattaforme on demand di cui parlavamo prima che permette di avere un ISBN gratuito arg.org che è questo caso specifico che è un canale illegale a costo zero e in tiratura limitata allora questo progetto è interessante a due livelli uno perché include nel suo progetto grafico i canali di distribuzione e due perché prende in considerazione come canali ufficiali canali che ufficiali non sono che le inaudi non prenderebbe mai in considerazione ad esempio anche se hanno un impatto negativo positivo sulla distribuzione di un dato contenuto ora sui vantaggi e i limiti del print on demand magari ne possiamo parlare insieme come magari tu ne anticipavi qualcuno prima stavamo parlando della questione dei costi relativi ad una tiratura digitale limitata se vuoi possiamo anche raccontare di il like sì 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 ok lo racconto io lo racconto io me l'ha raccontato Silvio cinque minuti fa dieci minuti fa praticamente Silvio con Adriano Vulpio con Adriano Vulpio hanno realizzato questo questo libro su che analizza il fenomeno del del like del mi piace su facebook è possibile acquistare questo libro da 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 informa per di print on demand però al momento non è stata venduta ancora nessuna copia di questo libro nonostante io facevo il mio esempio personale sono andata sul sito perché volevo comprarne una copia però sono stata scoraggiata dal prezzo delle spese di spedizione che era se non sbaglio superiore a quello del 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 libro più il libro costa che ne so tre euro mentre le spese di spedizione ammontano tipo dodici euro dove viene inviato dagli stati uniti se non ricordo male e quindi insomma questo questo è uno degli esempi dei vantaggi dei limiti degli svantaggi del print on demand in questo caso come dire una soluzione che a livello dal punto di vista degli autori poteva essere estremamente comoda cioè quella di non dover investire una somma iniziale per produrre delle copie stampate ha come diciamo come aspetto negativo il fatto di probabilmente limitare la vendibilità in questo specifico caso del libro perché magari stampando ne poche copie tipo 20-30 copie il prezzo scende ma anche scegliendo una un tipo diverso invece di un print on demand magari realizzare voi materialmente in questo caso poteva costare realmente 3 euro e essere distribuito in Italia magari per poste comunque ad un prezzo più ad un prezzo inferiore però è interessante in ogni caso come appunto come esempio di possibilità che vengono esplorate e che poi ti insegnano anche delle cose posso fare un controesempio perché effettivamente questo libro per ora che anche lui è recente è stato un po' sfortunato c'è quest'altro sempre sempre prodotto in print on demand però sull'ULU che ha sempre questi problemi relativi alle spedizioni però siamo riusciti a venderne senza fare nessun tipo di pubblicità perché lo vendiamo a prezzo di costo questo è realizzato sempre in collaborazione con l'artista tedesco di cui vi dicevo sopra ne abbiamo vendute 200 copie lo vendiamo a prezzo di costo perché non siamo interessati a un introito la nostra idea è quella di diffonderlo il più possibile non contiamo di farci un'industria per l'appunto e il print on demand ci ha permesso di raggiungere facilmente senza alcun tipo di problema un pubblico ad esempio statunitense infatti la maggior parte delle copie sono state vendute negli Stati Uniti grazie alla diffusione su blog principalmente su blog e al fatto che probabilmente negli Stati Uniti le spese di spedizione sono pari a zero giusto 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 beh poi ci sono dei limiti evidenti sulla qualità sulla qualità del libro se ti aspetti un certo tipo di libro ma io su questo non sarei neanche nel senso ci sono perché secondo me ci sono anche un sacco di libri stampati in tipografia che non sempre hanno una qualità superiore non si non sempre hanno una qualità superiore ad un libro stampato col print on demand chiaramente poi dipende ma nel caso secondo me non dipende tanto da un problema di stampatore di competenze dello stampatore ma anche da un problema di quanto si vuole investire in carta in materiali bisogna specificare che non si possono scegliere carte speciali diverse finiture formati si può scegliere diciamo tra un range di una ventina di formati quindi la customizzazione di quel tipo di esempio è praticamente impossibile però allo stesso tempo credo che a me piace molto la stampa print on demand perché ha un'estetica molto molto che si può diciamo identica si può si può riconoscere molto facilmente ed è secondo me affine a quella della fotocopia e in quel tipo di logica incorpora quel tipo di volontà di diffondere diciamo è una scelta che ha un certo tipo di significato pur non essendo magari un bello oggetto nel senso classico del termine per esempio nell'esempio che avevo fatto prima di Nanni Balestrini la tecnologia che è stata utilizzata per stampare quel libro alla fine è molto simile anzi praticamente quella dei libri on demand quindi la qualità della carta della rilegatura non è eccelsa però per avere quello per lo scopo per cui è stato pubblicato quel libro qual era la tecnologia la qualità che si poteva ottenere e quindi magari passa in secondo piano magari una risoluzione del problema dei costi del print on demand era la questione dell'espresso book machine che era una non so se è ancora attiva come rete è ancora attiva era una rete di librerie e biblioteche all'interno delle quali era presente questa stampante che è appunto una stampante legata al print on demand dove tu dove il lettore poteva scegliere dei testi magari fuori produzione da svariati anni introvabili e poteva stamparlo al momento quindi magari una rete del genere potrebbe essere una soluzione anche alla questione delle spese di spedizione facendo stampare in America ho provato l'espresso book machine perché è ad Amsterdam una macchina e c'erano numerosi problemi l'ideale è bellissimo quello di poter stampare un libro in pubblico dominio così al momento il problema è che dimostrare che un libro nel pubblico dominio non è semplicissimo specialmente in casi rari e comunque i prezzi erano piuttosto alti sempre a livelli di tiratura molto basse nel senso nel caso in cui volessi fare una copia e poi dovevi firmare un agreement in cui rendevi il tuo libro disponibile alla stampa in tutta la rete che magari può essere un vantaggio ma magari invece no perché che ne so puoi volerlo stampare solo per te non so però da tenere in considerazione volete intervenire un paio di progetti che usano il print on demand non tanto come strumento ma quanto proprio oggetto della ricerca formale questo è un progetto di James Goggin che è un un designer il quale si pone la questione di testare effettivamente è una sorta di classico del print on demand come potete immaginare non tanti progetti diciamo che fanno uso del print on demand come oggetto sono stati sviluppati dunque che cosa fa questo progettista produce un libro che è una sorta di dummy per l'appunto un libro di text in cui ogni pagina corrisponde a un test da far fare alla macchina quindi produce ad esempio non so la testa corpi di carattere molto piccoli o prova un certo tipo di combinazione di colori e poi scopre il risultato nel momento in cui lo riceve e l'aspetto interessante è che gioca con la piattaforma rivolgendosi in prima persona infatti in ogni pagina c'è un tipo di riferimento tipo cara Lulu mi provi mi provi questo e poi trai le sue conseguenze le sue conclusioni però credo che sia più interessante il gesto che effettivamente l'idea funzionale diciamo lo scopo funzionale del però da un altro punto di vista magari potrebbe essere considerato una sorta di catalogo delle possibilità ottenibili con quella tipologia di stampa e qui passiamo infatti al un progetto che è simile è un progetto più recente sviluppato da end publishing di una casa editrice londinese in cui l'idea è più o meno la stessa quella di testare i sistemi di produzione on demand però invece di testarne uno ne vengono testati quanti sono dodici formati diversissimi e soprattutto tipologie di artefatto editoriale molto diverse dal quotidiano che vedete lì in conclusione fino a un formato molto piccolo che è il primo che diciamo è basato su una piattaforma della Apple che serve per stampare le proprie foto ecco perché è così piccolo perché la risoluzione della camera è molto bassa quindi vale la pena avere un librettino un aspetto interessante a livello di design è il fatto che i progettisti gli obechi hanno deciso di non creare un libro o un dummy specifico per ogni sistema però utilizzare un solo file e basare l'esito di questo esperimento sull'idea che questo singolo file grosso quanto il formato più grande quotidiano viene ritagliato e diciamo se io acquisto il formato più piccolo non so che cosa c'è intorno a quel formato quindi lavora spazialmente in un certo senso connettendo le varie le varie diciamo le varie possibilità che sono comunque diciamo unite in questo network e questo singolo file grande che è una sorta di panorama ok queste sono soluzioni diciamo specificatamente rivolte alla stampa però ci sono casi in cui e qui ho bisogno un attimo degli appunti in cui un autore in questo caso Cory Doctor prova a mettere insieme tutte le posizioni possibilità che ha a disposizione per ottenere il ricavo maggiore possibile relativo a un suo libro infatti lui è l'autore si tratta di un libro di fantascienza lui è un autore di fantascienza piuttosto noto un attimo solo che sto cercando praticamente quali sono le versioni che Cory Doctor ha rilasciato di questo libro dunque lui fornisce questo libro in una versione hardcover ovvero con copertina rigida in 250 copie contenente una scheda SD che contiene il testo completo in tutte le versioni ebook e audio che vengono successivamente dei frontespizi personalizzati quattro versioni print on demand ognuna con una cover diversa fornisce gli audiobook fornisce gli ebook in sei formati ufficiali accompagnati da altri sette formati che sono convertiti da fan del progetto che si mettono e effettivamente si mettono a convertire questo libro in un altro formato fa questa cosa divertentissima che è aggiungere una nota di ringraziamento nelle versioni in print on demand a qualsiasi lettore che gli segnala un refuso quindi c'è trovate il refuso corretto con nota a piedi pagina con scritto grazie a Maria Rosaria di Gregorio per avermi aiutato quindi il libro cambia con il network di persone sviluppa un sistema attraverso cui è possibile regalare una copia del libro a una scuola a una libreria e infine questo mi sembra un aspetto molto interessante per un editore wannabe è il fatto che rilascia un report mensile sul bilancio economico del progetto mostrando costi e ricavi concludo con questo progetto che si tratta di un libro d'artista cartaceo in copia unica realizzato da Paul Chen con una tecnica di stampa molto particolare ovvero facendo in modo tale che recuperando delle pagine già stampate sovrastampando ulteriori contenuti in un libro che si chiama guarda caso what is a book come vedete il refuso è voluto che si interroga guarda caso sulla forma del libro l'aspetto interessante è che la copia la copia unica cartacea costa 500 dollari mentre esiste una copia digitale che costa un dollaro quindi per unire questi due mondi che sono quelli del libro d'artista di alto pregio è la diffusione digitale piuttosto diffusa rispetto ai canali di distribuzione volevo dire una cosa tornando indietro secoli fa è un eccole un esempio di come coinvolgere un altro esempio di come coinvolgere il lettore all'interno del processo di finanziamento e distribuzione di un libro i bianciardini sono un progetto parallelo sono stati non so se sono tuttora acquistabili però sono un progetto parallelo di stampa alternativa di stampa alternativa e della fondazione Luciano Bianciardi che raccolgono degli scritti di 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 bianciardi appunto che è stato un intellettuale italiano negli anni 60-70 estremamente polemico nei confronti del sistema dell'industria culturale dei sistemi di diffusione del sapere e in pratica l'operazione bianciardini funziona in questa maniera ogni libro costa un centesimo di euro però il lettore che decide di acquistare un libro deve acquistare almeno 100 al prezzo di un euro sì 10 no 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 un euro quindi costa solo un centesimo però se l'elettore vuole acquistarlo è obbligato ad acquistarne 100 ovviamente può anche fare pagarli di più se vuole donare cioè pagarli una somma appunto pagare qualcosa in più per finanziare il progetto però l'idea interessante è quella di avere questo prezzo simbolico e affidare però poi al lettore il compito se lo desidera di distribuire queste 100 copie è qualcosa che è molto probabile che accada perché alla fine se ti ritrovi con 100 titoli o anche 10 titoli però con parecchie copie per ogni singolo titolo probabilmente le regalerai ai tuoi amici le puoi anche rivendere loro non ponevano limiti al tipo di a che cosa potevi fartene delle copie ottenute potevi anche rivenderle a 200 euro l'una chiaramente non sarebbe stravolgendo completamente diciamo l'idea alla base però in realtà loro poi al lettore accordavano la libertà di decidere di farsene di fare di quelle copie ciò che riteneva più opportuno come dire mi sembra interessante perché è un po' lo stesso funzionamento ha alcuni parallelismi con Kickstarter con tutte queste piattaforme di crowdfunding però in questo caso il tutto avveniva in maniera estremamente analogica io ho comprato 100 copie di questi libri e li ho ricevuti per posta e ho spedito per posta un euro di Franco Bolli sostanzialmente insomma era molto molto tenera come mi sono emozionata sì l'ultimissimissimissima cosa a cui volevamo velocemente accennare era la questione dei festival come un luogo luoghi di diffusione dell'autoproduzione dell'autoproduzione editoriale come questo sono molto spesso i festival e le fiere che negli ultimi anni sono sono cresciuti considerevolmente e ne sono nati di nuovi nel corso degli ultimi due tre anni questo è il manifesto di uno dei primi festival dedicati all'editoria indipendente all'editoria artistica ed era risale al 2011 a Venezia qui abbiamo due cataloghi di Fahrenheit 39 che è un altro festival tra l'altro su Fahrenheit c'è una storia sul nome sul sottotitolo che accompagna Fahrenheit c'è una storia interessante ogni anno il sottotitolo cambia a seconda del insomma cercando di definire focalizzarsi su un aspetto in particolare legato all'editoria quello di a Ravenna sì grazie oltre al numero considerevole di festival di editoria organizzati in Italia saranno tipo 4 o 5 per micro micro sì saranno più o meno 4 o 5 per un insomma come dire l'esistenza di tutti di tutte queste occasioni per parlare diffondere mostrare libri autoprodotti in un certo senso dimostra che si tratta di una realtà abbastanza diffusa una delle polemiche che tiravamo spesso che insomma è la questione in alcuni casi legata alla alla qualità alla è necessario avere queste cose stampate insomma ho anche questioni legate alle tirature ciò che si trova a tiratura limitata ha veramente senso come tiratura limitata insomma è un discorso a cui volevamo accennare brevemente senza entrare aprendo magari alla discussione nel caso abbiate partecipato a qualcuno di questi festival o comunque avete intenzione di aggiungere qualche altra cosa perché siamo abbastanza spappolati volevate dire qualcosa in particolare io alla fine chiuderei anche domande riflessioni critiche mi sa che possiamo ringrazio 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 spazio 314 e voi per averci ascoltati per quattro ore speriamo che la nostra idea geniale di fare questo intervento tutto spezzettato rimescolato non vi abbia confusi completamente come fatto con noi le cose ci sembrano molto meno chiare di quando siamo arrivati abbiamo allestito il nostro banchetto di libri insomma speriamo che vi siate divertiti mi sembra una parola eccessiva non vi siate annoiati troppo grazie grazie grazie